Adesso ci occuperemo di funzioni. Dapprima vedremo degli esercizi di carattere generale che riguardano le funzioni in generale, poi ci concentreremo su una parte che vi è più familiare, che sono le funzioni reali, di variabili reali, in cui dovremo cercare, per esempio, il dominio o il campo di esistenza della funzione. E sono gli esercizi più comuni che i ragazzi incontrano durante il percorso di studi. Allora, cominciamo dapprima con esempi piuttosto elementari. Quindi, per esempio, il primo esempio di funzione di cui voglio parlare è una funzione che ha per dominio i numeri naturali e per codominio ancora l'insieme dei numeri naturali. La legge è quella che ogni numero naturale fa corrispondere il suo doppio. Allora, innanzitutto voglio sapere se questa è una funzione, nel senso generale della parola, che a ogni elemento del dominio deve far corrispondere uno e un solo elemento del codominio. La risposta è elementare perché ogni numero naturale ha un solo doppio, quindi ogni numero naturale corrisponde a un, perfetto, esattamente un solo numero naturale. Dopodiché vorrei sapere se questa funzione, quindi è una funzione. La risposta è banalmente sì. Voglio sapere se è iniettiva e o suriettiva. Iniettiva vi ricordo che significa se ha elementi distinti, fa corrispondere elementi distinti. Suriettiva vuol dire che ogni elemento del codominio proviene da qualche elemento del dominio. Allora, vediamo un po' l'iniettività. Per vedere l'iniettività, prendo due elementi che hanno la stessa immagine e devo dimostrare che essi coincidono. Quindi per l'iniettività devo far vedere che se l'immagine di M coincide con l'immagine di N, devo dimostrare che M è uguale ad N. Se provo questo, allora è iniettiva. Ho fatto questo primo esempio che è il più banale possibile. Ora, l'immagine di M è il suo doppio. L'immagine di N è il suo doppio. Io so che il doppio di M è uguale al doppio di N. Se io divido ambo i membri per due, ottengo M uguale ad N. Ed è esattamente quello che volevo. Sulla seconda questione, se questa funzione è suriettiva, capite benissimo, l'immagine è sempre il doppio di un numero naturale e quindi è sempre un numero pari. Quindi uno vede subito che la risposta è banalmente no, perché per esempio 3 non sta nell'immagine. Non c'è nessun numero naturale il cui doppio fa 3. Ho detto 3, potevo dire un qualsiasi altro numero dispari. Quindi questa applicazione è un esempio iniettiva, ma non è suriettiva. È un esempio molto facile, ma è sempre viva tanto per rompere il ghiaccio. Adesso complichiamo un po' la storia. E adesso voglio sapere se quella che ho scritto adesso, questa legge qui, dà una funzione da N ad N. Allora mi devo chiedere, è vero che ogni numero naturale N mezzi è ancora un numero naturale? La risposta è palesemente no, perché se faccio l'immagine di 1, tanto per fare un esempio, se faccio l'immagine di 1, la risposta sarebbe un mezzo che ovviamente non è un numero naturale. Quindi 1 non ha l'immagine, quindi non è una funzione. Quindi non è una funzione. Perché vi ricordo, per poter parlare di funzione, devo conoscere non solo la legge, ma dove mi muovo, cioè dire dal dominio, e dove finisco, cioè dire il codominio. Certo, se io avessi scritto, prendiamo l'insieme dei numeri pari, per semplicità i numeri pari li indico con questo simbolo. e applico questa legge che a ogni elemento X appartenente a 2N, faccio corrispondere X mezzi. Esattamente la stessa legge di prima, solo che ho cambiato il dominio, come vedete. Non è più N, ma sono i numeri pari. Allora mi devo chiedere, è vero che ogni numero pari, la sua metà è ancora un numero naturale? La risposta è sì, perché se X sta in 2N, vuol dire che è un numero pari. Se è un numero pari, per definizione, è divisibile per 2, quindi sarà 2 per qualche numero naturale. e quindi X mezzi sarà esattamente H, che è un numero naturale. Quindi non è la legge che ci dice che non è una funzione o è una funzione, ma devo vedere chi è il dominio e qual è il codominio. Altro esempio che mette in evidenza questa particolarità delle funzioni potrebbe essere questa. Prendiamo Z è l'insieme degli interi relativi e Q, quello dei razionali. Adesso assegno questa legge. Scubo più 8 fratto 2. Sì. E poi assegno sempre da Z e Q per la data di X quadrato meno 2X più 4. Allora, qua ho sbagliato, non dovevo scrivere 2, ma dovevo scrivere X più 2, perdono. Guardiamo un po' quello che ho scritto. Mi chiedo, per esempio, cominciamo dalla prima parte. Questa è una legge? È un'applicazione? È una funzione? Per dire che è una funzione, a ogni intero relativo questa legge mi deve fare corrispondere un numero razionale. In effetti, se prendo il numero 1, cosa devo fare? 1 più 8 che fa 9, terzi, 3, benissimo. se prendo il numero 0, 0 più 8, 8 fratto 2 uguale a 4. F di meno 1, meno 1 più 8 fa 7, meno 1 più 2 fa 1, e così via. Benissimo. Sembrerebbe che tutto va bene. purtroppo, se cerco però l'immagine di meno 2, l'immagine di meno 2 sarebbe meno 8, 0 su 0. Veramente qualunque cosa ci fosse finito quassù, purtroppo, vedendo questo 0 qua sotto, voi mi insegnate che non posso dividere per 0. Quindi questo 0 fa sì che questo qua, certamente non è un numero razionale. Pertanto non è una funzione, perché la funzione pretende che a ogni numero del dominio corrisponda. Benissimo. Allora facciamo così. Da z ci tolgo meno 2, che era quello che mi dava fastidio. Adesso qualunque numero metto, purché non sia meno 2, qua sotto 0 non mi verrà mai, quindi sono a posto. Mi chiedo a questo punto, d'accordo, questa adesso, questa che ho scritto qua, è una funzione. Bene. Ora, piccola riminiscenza, spero che tutti ricordiate che 8 vuol dire 2 al cubo. E quando incontro x al cubo più 2 al cubo, è facile ricordare che essendo la somma fra due cubi si può scrivere in un particolare modo che adesso vi ricordo si può scrivere x più 2 che moltiplica x quadrato meno 2x più 4. Vabbè, ricordate un po'. Somma fra due cubi. Cosicché, questa funzione così scritta sarebbe x più 2 fratto x quadrato meno 2x più 4 fratto x più 2. Ovviamente tutti quanti a questo punto sanno posso dividere la frazione non cambia se divido il numeratore e il numeratore per un numero purché non sia 0 e 0 non è perché il meno 2 non c'è nei miei discorsi e quindi la mia funzione sarebbe x quadrato meno 2x più 4. La domanda è questa funzione e questa funzione sono uguali? Sembrano uguali. In effetti la legge è la stessa. Adesso la vediamo. prima sembrava completamente diversa adesso sembra proprio la stessa legge. Qual è l'unica differenza? L'unica differenza è che questa funzione qua è definita su tutto z. Tutti gli interi hanno qui un'immagine. Questa legge vale solo in z meno 2 quindi hanno la stessa legge lo stesso codominio ma il dominio non è lo stesso. Quindi questa qui che si poteva semplificare sembrare la stessa di questa non è la stessa legge perché purtroppo ha il difetto questa che questa legge la possa applicare soltanto a z escluso meno 2 mentre questa la possa applicare a qualunque intero a qualunque intero esattamente anche a meno 2. Questa è la particolarità. Quindi anche se la legge è sempre la stessa apparentemente sempre la stessa queste due leggi non sono uguali perché cambia il loro dominio. Vabbè questa era una piccola sottigliezza. Vediamo altri esempi anche al di fuori da quelli numerici. Allora prendiamo l'insieme di tutti i triangoli s l'insieme di tutti i segmenti. Mettiamoci in un piano tanto per semplificarci. Adesso io vi do queste leggi la chiamo c che a ogni triangolo deve fare corrispondere un segmento. Precisamente la legge è questa ogni triangolo faccio corrispondere anzi non mettiamo i triangoli facciamo un esempio ancora più semplice. Prendiamo i triangoli rettangoli ancora più facile non tutti i triangoli ma i triangoli rettangoli. Alla legge che voglio assegnare è questo prendiamo un triangolo rettangolo e gli faccio corrispondere la sua ipotenusa. l'ipotenusa è un segmento naturalmente e pertanto questa è una funzione. È iniettiva? È suriettiva? Vediamo un po'. Iniettiva. Possiamo immaginare due triangoli rettangoli diversi che hanno la stessa ipotenusa? ovviamente sapete benissimo per esempio vi ricordate a scuola avete visto prendete una semicirconferenza prendete un qualunque punto della semicirconferenza questo sarà un triangolo rettangolo che ha per ipotenusa il diametro se prendo un altro punto questo è un altro triangolo rettangolo che ha la stessa ipotenusa quindi triangoli diversi hanno la stessa immagine la stessa ipotenusa pertanto questa non è iniettiva vediamo se è suriettiva suriettiva che vuol dire che ogni volta che prendo un segmento esiste un triangolo rettangolo che ha quel segmento come ipotenusa praticamente ve l'ho suggerito di già prendete un qualunque segmento S piccolo questo c'è un triangolo rettangolo che ha quello ve l'ho detto poco fa sostanzialmente prendete la semicirconferenza che è per diametro S addirittura ce ne sono quanti ne volete perfetto d'accordo quindi questa non è iniettiva ma è suriettiva sempre lasciando questo dominio e codominio cambio la legge allora siamo sempre lì chiamiamolo c con uno sempre dall'insieme dei triangoli rettangoli facciamo sempre all'insieme dei segmenti c con uno fa corrispondere ad ogni triangolo un suo cateto mi chiedo se questa è una funzione cosa diceva a ogni elemento del dominio deve corrispondere uno ed un solo elemento del codominio ma un triangolo rettangolo non è un solo cateto ne ha due ne ha due quindi a ogni triangolo rettangolo corrisponderebbero due segmenti quindi certamente questo in modo palese non è una funzione adesso cambiamo leggermente e prendo e prendo sempre i triangoli rettangoli e stavolta prendo come codominio i numeri reali positivi r più sto indicando i numeri reali positivi la legge che vi do è quella che a ogni triangolo faccio corrispondere a ogni triangolo perdono faccio corrispondere la sua area scelgo un'unità di misura per esempio il metro quadro allora è vero che a ogni triangolo rettangolo corrisponde un numero reale presenzialmente la sua area l'area è vero che è un numero reale positivo benissimo sappiamo sappiamo anche come si calcola qui è rilevante quindi a ogni triangolo rettangolo associamo la sua area ce n'è una sola area naturalmente quindi certamente questa è una funzione vediamo se è iniettiva ci sono triangoli rettangoli distinti che hanno la stessa area l'abbiamo visto poco fa che hanno la stessa area sì allora iniettività prendete un triangolo rettangolo che ha per area che ha per cateti 3 4 e 5 allora ovviamente l'area è 6 3 per 4 12 sono 2 non vi faccio perdere tempo in queste cose vi sono certamente familiari d'altra parte tipotenuse neanche la calcola per Pitagora ve la potete calcolare voi radice quadrata di 4 più 36 radice quadrata di 40 farà quel che farà anche questo triangolo rettangolo area 6 2 per 6 12 diviso 2 6 quindi esistono triangoli rettangoli diversi che hanno la stessa area quindi palesemente non è iniettivo no mi chiedo se è subiettiva allora cosa mi devo chiedere se io prendo un qualunque numero reale positivo c'è un un rettangolo un triangolo rettangolo che ha per aria questo numero reale positivo e la risposta è facilmente sì perché prendiamo un numero reale positivo qualsiasi alfa allora prendiamo il triangolo rettangolo che ha per lato alfa e per l'altro lato 2 e qua verrà quello che verrà Pitagora ci dirà quello che vale e allora l'area è 2 alfa fratto 2 e quindi alfa quindi qualunque numero reale noi pigliamo positivo naturalmente posso trovare facilmente un triangolo rettangolo che ha per area alfa quindi ogni numero reale positivo proviene da almeno un triangolo rettangolo in effetti proviene da infiniti triangoli rettangoli quindi la risposta è sì è subiettiva bene studiati questi esempi così di carattere generale per il momento adesso vorrei concentrarmi di più sulla parte che certamente è molto importante per la matematica di base quindi per coloro che si accingono a studiare a fare studi scientifici ed è lo studio delle funzioni reali di variabile reale vi devo ricordare una cosa quando si parla di funzioni reali di variabile reale in effetti noi facciamo un abuso di linguaggio perché le nostre funzioni in effetti dovrebbero andare da r in r r è l'insieme dei numeri reali ma noi sottointendiamo quando diamo la legge di avere come dominio non tutto r perché probabilmente su tutto r non è definito ma di andare a prendere il più grande sotto insieme di r in cui la funzione è definita ecco perché noi quando vi do la legge delle funzioni reali variabili reali andiamo a cercare quello che si chiama il campo di esistenza di questa funzione o dominio perché in effetti la legge potrebbe essere data da r r ma su alcuni valori di r questa legge non vi produrrebbe un numero reale perché come detto non sarebbe una funzione quindi il dominio o campo di esistenza di una funzione f di x reale di variabile reale è il più grande sotto insieme di r in cui la nostra funzione è definita ecco perché si chiama campo di esistenza dominio o campo di esistenza adesso produrrò una scelta faremo una serie di esempi concreti in cui si cerca il campo di esistenza di una funzione allora quindi io non dirò più qual è il dominio e il codominio il dominio lo dovremmo cercare il codominio è tutto r quello sempre cercare significa andare a cercare quali sono i valori di r in cui la nostra funzione è definita primo esempio supponiamo che la legge sia data in questa maniera radice quadrata di 1 meno x fratto x più 2 comincio con esempi molto facili naturalmente quando vi darò una funzione reale di variabile reale noi ci dobbiamo preoccupare di andare a vedere per quali valori di x il risultato è un numero reale questo solo dobbiamo vedere e qui entrano in gioco molte cose che uno man mano nel corso degli anni ha studiato i radicali i logaritmi gli esponenziali le funzioni trigonometriche eccetera eccetera per esempio in questa funzione entrano in gioco soltanto due fattori il fatto che sto facendo una divisione e l'unico problema che mi devo ricordare è che quando faccio la divisione non posso dividere per zero questo è facile da ricordare perché dalle scuole elementari ci hanno fatto una testa così quindi l'unica preoccupazione per la divisione è che il divisore non sia zero poi vedo un radicale e allora mi devo ricordare che se incontro un radicale con esponente pari in questo caso anche se non c'è scritto nulla ben sapete che vuol dire radice quadrate quindi là c'è un 2 sottinteso ci dobbiamo preoccupare perché il teorema ci assicura l'esistenza del numero reale se il radicando è un numero maggiore o uguale a zero quindi in questo caso specifico la ricerca del campo di esistenza consiste semplicemente nell'andare a cercare quali valori quelli che rendono questo diverso da zero e quello che rendono il radicando maggiore o uguale a zero facilissimo quindi x più 2 non deve essere zero e 1 meno x deve essere maggiore o uguale a zero tutte le x che soddisfano queste diseguaglianze che ho scritto faranno parte del campo di esistenza o del dominio della nostra funzione ora risolvere questo piccolo sistema piuttosto elementare che questo significa x diverso da meno 2 e questo vuol dire x minore o uguale a 1 attenzione sto moltiplicando per meno 1 quindi devo cambiare diverso porto dall'altra parte su quelle di primo grado mi permetto di immaginare che non abbiate nessun problema da questo ad avere questo quindi se voglio rappresentare il mio dominio basterebbe scrivere così tutti i numeri reali che non sono uguali a meno 2 e che sono minori o uguali a 1 se la voglio rappresentare qua c'è il numero 2 sono tutti i numeri diversi da anzi non è il 2 eh pardonne è il meno 2 quindi sono tutti i numeri diversi da meno 2 quindi qua c'è un buco tutti i numeri reali tranne meno 2 qua poi devo prendere qua prendo il numero 1 tutti i numeri minori o uguali a 1 allora siccome devo devo stare sia qua insiemisticamente e l'intersezione fra questi due insiemi e quindi nel nostro caso il campo di esistenza sarà formato da tutti i numeri da qui fino a qua e poi tutti questi invece di dirlo così si può scrivere per x minore di meno 2 e per x compreso tra meno 2 e 1 questa è una maniera di scriverlo oppure se vi piace con gli intervalli sono la meno infinita questa scrittura e questa sono sinonimi e questa va bene e sono tutti e l'intervallo tra meno 2 e 1 il simbolismo che sto usando chiudo la parentesi se l'elemento è incluso fa parte del nostro insieme uso la parentesi aperta se l'elemento non è incluso ma questi sono dettagli è importante avere capito cosa devo fare poi come si descrive l'insieme ottenuto è un dettaglio altro esempio allora stavolta la legge è così data logaritmo di 1 meno radice di x meno 2 su x ogni volta che entra in gioco un nuovo ingrediente vi ricordo ciò che vi occorre allora qui in questa legge cosa incontriamo da capo incontriamo una divisione per x poi incontriamo da capo un radicane stavolta incontriamo anche un logaritmo allora cosa dobbiamo ricordarci le due cose precedenti ve le ho già ricordate vi devo ricordare cosa succede per la funzione logaritmo ora il logaritmo esiste soltanto quando l'argomento del logaritmo voi siete abituati a scrivere così logaritmo per esempio di b in base a quando non vedete niente scritto sottintendiamo il numero di nepero ma è rilevante in tutto questo discorso per il momento questo simbolo ha senso quando a è maggiore di 1 maggiore di 0 è diverso da 1 quindi la base del logaritmo deve essere sempre maggiore di 0 è diverso da 1 e l'argomento b deve essere maggiore di 0 quindi dobbiamo ricordare che questo simbolo ha un senso è un numero reale solo in questi casi allora andiamo alla nostra funzione vi ho detto ciò che occorre quindi possiamo produrre il campo di esistenza di questa funzione a brevio così campo di esistenza allora siccome sto dividendo per x la prima cosa che osservo che x il denominatore non dovrà essere 0 poi osservo che c'è un radicale quindi devo imporre che il radicando cioè dire ciò che è dentro la radice deve essere maggiore o uguale di 0 e infine ricordando ciò che ho detto per i logaritmi l'argomento del logaritmo nel mio caso 1 meno radice di x meno 2 deve essere strettamente maggiore di 0 quindi stavolta per cercare il campo di esistenza praticamente ho scritto ciò che mi occorre il problema sposto la ricerca del campo di esistenza a sapere risolvere dapprima queste disequazioni e poi prendere le soluzioni comuni quindi fare l'intersezione fra i tre insiemi così ottenuti quindi saper fare l'intersezione tra i insiemi come vedete vi importa pure allora sulle prime due diseguaglianze non ho alcun problema qualche problema me lo pone questa diseguaglianza perché ha che fare con diseguazioni di tipo irrazionali a cui dedicheremo poi ampio spazio in seguito per una sezione a parte qua faccio vi dico semplicemente cosa devo fare allora prima di tutto isolo diciamo così isoliamo la parte con il radicale quindi lascio questo nel primo membro e porto questo da quest'altra parte naturalmente siccome ho meno da una parte meno dall'altra posso moltiplicare i membri per meno 1 ricordando che se in una diseguaglianza moltiplico per un numero negativo devo semplicemente cambiare il verso della diseguaglianza quindi questa diventa radice quadrata di x meno 2 maggiore di 1 queste di sopra non le ricopio più sono quelle di prima qui non si pongono tanti problemi perché io già so che qui dentro x meno 2 è maggiore o uguale a 0 anche se non lo scrivo qua tanto c'è qua su scritto quindi non lo ripeterò più dovrei aggiungerlo ma già lo so che già siccome va tutto in questa intersezione già so che x meno 2 è maggiore a 0 quindi il primo membro è una quantità positiva il secondo membro è una quantità positiva quindi una diseguaglianza non cambia se io elevo al quadrato ambo i membri visto che sono entrambi positivi questa è un'osservazione che va fatta non posso tranquillamente elevare al quadrato ma perché non posso elevare al quadrato perché se io avessi che so 5 maggiore di meno 7 5 maggiore di meno 7 diciamo che è palesemente vero se voi non vi curate di ciò che state facendo elevate al quadrato ambo i membri vi verrebbe fuori 25 maggiore di 49 palesemente falso quindi prima di elevare al quadrato dobbiamo andare con i piedi di piombo dobbiamo essere certi che elevando al quadrato non si introducono delle delle soluzioni sbagliate errate ma qui non abbiamo problemi ripeto perché sull'1 non ho dubbi naturalmente qui potrei avere qualche dubbio ma siccome x meno 2 è maggiore di 0 questo è un numero maggiore di 0 allora posso elevare al quadrato e quindi diventa questo alla fine questo viene 3 quindi alla fine il risultato è l'intersezione tra x diverso da 0 x maggiore o uguale a 2 e x maggiore di 3 faccio l'intersezione fra questi tre insieme e avrete il campo di esistenza ve lo disegno soltanto poi esprimerlo come volete lo scrivete quindi 0 è escluso dai miei discorsi quindi tutto tranne lo 0 poi x maggiore o uguale a 2 e x maggiore di 3 il 3 è escluso devo prendere quelle che soddisfa tutte e tre deve stare quindi nell'intersezione di 3 come vedete la parte che ha tutte e tre le linee 1, 2, 3 qua c'è solo 2 qua c'è solo 1 è questa quindi l'intersezione è x maggiore di 3 questo è il campo di esistenza di questa funzione bene altro esempio prendiamo adesso questa funzione f di x uguale a 2 elevato a x più 2 su x meno 2 la domanda è sempre la stessa cercare il campo di esistenza farò una serie di questi esempi perché sono piuttosto importanti per per la matematica di base allora guardiamo qui qui cosa trovo trovo una una potenza e ora devo semplicemente ricordare che l'esponente in una potenza può essere un qualunque numero reale quindi non ho nessuna restrizione dal fatto che qui vedo una potenza non è la stessa cosa nel caso dell'ogarittimo l'argomento dell'ogarittimo doveva essere maggiore di 0 qua l'esponente del 2 può essere un qualunque numero reale allora l'unica cosa di cui mi devo preoccupare stavolta è soltanto questo termine sembrava più complesso di altri in effetti qua l'unica cosa che mi preoccupa è che questo non sia 0 quindi il campo di esistenza di questa funzione è facilissimo sono tutti numeri reali diversi da 2 questo è il campo di esistenza quindi questo l'ho voluto fare non perché fosse particolarmente complicato per osservare il fatto che quando trovo un esponenziale l'argomento l'esponente della mia potenza può essere un qualunque numero reale quindi non ci sono restrizioni in questo caso vediamo quest'altro esempio facciamo entrare un po' la trigonometria per esempio supponiamo che la funzione sia questa qua 1 meno sen x su 1 più sen x vediamo di cosa vi devo preoccupare cosa vedo qua vedo al solito una divisione benissimo e quindi quando vedo una divisione subito dirò che 1 più sen x deve essere diverso da 0 questo appena vedo una divisione il denominatore non deve essere 0 poi vedo che l'x si trova come argomento del seno ci sono limitazioni il seno è una funzione definita su ogni numero reale la risposta è sì sapete che è una funzione periodica su qualunque numero reale è definita quindi non pone nessuna restrizione quindi il campo di esistenza di questa funzione è dettata soltanto da questa diseguaglianza 1 più sen x diverso da 0 cioè sen x diverso da meno 1 allora qui si tratta di ricordare di ricordare alcune cose sulle veramente le equazioni goniometriche solo che questa equazione è molto facile ricordarsi dov'è che il seno vale meno 1 piccolo ricordo così il seno è l'ordinato meno 1 è qui quindi il seno vale meno 1 esattamente a due terzi pi greca no a tre mezzi pi greca perdono tre mezzi pi greca se parliamo di gradi è 270 gradi detto in radianti ma comunque questo è irrilevante quindi l'argomento del seno non deve essere tre mezzi pi greca tre mezzi pi greca ovviamente il discorso è periodico di due pi greca quindi più due landa pi greca quindi se aggiungo a questo numero un multiplo di due pi greca ritornerò sempre nello stesso punto quindi il campo di esistenza di questa funzione sono tutti numeri reali tranne tre mezzi pi greca più due landa pi greca quindi deve essere diversi da questi numeri x meno questi insieme qua devo togliere da r tre mezzi pi greca tre mezzi pi greca più due pi greca tre mezzi pi greca più quattro pi greca oppure questo landa naturalmente è un intero relativo quindi può essere positivo o negativo ma intero quindi multiplo di due pi greca queste faccio all'inizio esempi piuttosto elementari vediamo qualcos'altro adesso facciamo entrare in gioco questa funzione la funzione non solo c'è radice quadrata ma l'argomento della radice quadrata è uno meno logaritmo x più uno il tutto fratto logaritmo di x ecco la cosa comincia a complicarsi perché c'ho il logaritmo c'ho la radice c'ho la divisione il logaritmo è dentro la radice ma io non devo stare a ricordare tutte le varie tecniche devo ricordarmi semplicemente i fatti fondamentali cioè dire che l'argomento del logaritmo deve essere maggiore di zero che non posso dividere per zero che dentro una radice quadrata o quarta insomma una radice con indice pari deve essere maggiore o uguale a zero ricordate queste cose apporre le condizioni per trovare il campo di esistenza non è poi così complicato si tratta poi naturalmente come vedete la difficoltà consiste poi nell'andare a risolvere le disequazioni che ne nascono per esempio in questo caso allora cominciamo sempre io comincio sempre dal fatto che c'è la divisione se c'è la divisione allora logaritmo di x dovrà essere diverso da zero ora guardo il fatto che ci sono dei logaritmi e allora devo ricordare che gli argomenti dei logaritmi devono essere maggiori di zero qua trovo logaritmo di x quindi certamente x deve essere maggiore di zero qua trovo logaritmo di x più 1 quindi x più 1 dovrà essere maggiore di zero e così ho fatto entrare in gioco il fatto che nella mia funzione appare logaritmo ma adesso appare anche una radice quadrata quindi l'argomento quindi 1 meno logaritmo di x più 1 dovrà essere maggiore o uguale a zero maggiore o uguale a zero così come vedete ho tradotto tutte le informazioni affinché questo qui sia un numero reale quindi il campo di esistenza è l'intersezione fra tutti questi insiemi adesso il problema è essere disposta nell'andare a risolvere queste disequazioni che non sempre sono banali allora andiamo grado per grado il logaritmo di x deve essere diverso da zero allora qui una cosa sola uno deve ricordare sui logaritmi la definizione allora ricordo cosa vuol dire logaritmo di b in base a definizione è quel numero chiamiamolo come lo vogliamo chiamare alfa tale che messo come esponente ad a mi dà b questo vuol dire nient'altro che questo e io sostanzialmente sui logaritmi devo ricordarmi la definizione e poi due o tre proprietà di cui parleremo nei momenti in cui ci occorrono ne abbiamo parlato a suo tempo nella parte teorica qua le ricorderò quando ci gioveranno qua la definizione la dobbiamo avere chiara allora quando incontro logaritmo di x in base e uguale a zero mettiamo per per un attimo che qui ci fosse uguale allora vuol dire che x deve essere uguale ad e elevato a zero ho tradotto esattamente b deve essere uguale a questo elevato a questo quindi x deve essere e elevato a zero ora come vedete non mi preoccupo affatto che lì c'è e il numero che uno dice ma il numero 2,7 il rilevante perché siccome lo devo elevare a zero devo ricordare che qualunque numero elevato a zero da uno quindi nel nostro caso x deve essere diverso da uno d'accordo le altre due le altre due disequazioni sono una risolta e l'altra praticamente risolta e ci resta l'ultima anche qui se uno ricorda la definizione la avremo subito allora innanzitutto facciamo così meno logaritmo di x più 1 maggiore o uguale di meno 1 porto questo da quest'altra parte come si fa normalmente poi siccome ho il meno qua e il meno qua cambio di segno e quindi diverso e quindi fatemi scrivere direttamente questo diventa più questo diventa più e questo diventa minore o uguale ancora una volta applicherò la definizione di logaritmo 1 è l'esponente che devo dare ad E per ottenere questo ma dice ma qua non c'è mica uguale c'è minore o uguale allora qua devo ricordare un'altra cosa che i logaritmi che hanno una base più grande di 1 ed è un numero più grande di 1 sono logaritmi crescenti quindi se io ho questa diseguaglianza resta la diseguaglianza esattamente così com'è quando la base è più grande di 1 quando invece viceversa la base è più piccola di 1 per esempio un mezzo quando applico la definizione la funzione di logaritmo è decrescente e pertanto quando applico la definizione dovrò cambiare il verso non è il nostro caso al momento opportuno ne parleremo qui in questo caso io dovrò semplicemente scrivere che x più 1 è minore o uguale di e alla 1 che fa e allora ho praticamente finito il sistema finale sarà x diverso da 1 x maggiore di 0 x maggiore di meno 1 e x minore o uguale di e meno 1 si tratta ora di trovare l'intersezione fra questi 3 4 anzi insiemi precisamente vediamolo visivamente mettiamo sulla retta reale x diverso da 1 quindi vuol dire tutti i numeri eccetto l'1 il secondo insieme è formato da x maggiore di 0 quindi da 0 escluso in poi qua x maggiore di meno 1 meno 1 sarà qui escluso naturalmente x maggiore di meno 1 e infine x minore o uguale di e meno 1 si tratta di vedere questo e meno 1 dove si colloca la cosa importante è sapere se questo numero è più grande o più piccolo di 1 ma siccome è all'incirca 2,7 meno 1 è 1,7 non abbiamo dubbi che meno 1 si trovi qui minore o uguale vuol dire tutti i numeri minore di questo l'intersezione sarà quindi la parte di retta reale che ha tutte e 4 le soluzioni le 4 sbarre quindi come vedete qua ce ne sono solo 2 qua 2 qua 4 qua 3 quindi è chiaro che le soluzioni sono tutte queste ovviamente l'1 non è incluso quindi potrei dire tutti i numeri compresi tra 0 ed e meno 1 escluso l'1 o meglio scriviamolo meglio sono tutti i numeri compresi tra 0 e 1 esclusi gli estremi come vedete e tutti i numeri compresi tra 1 fino ad e meno 1 incluso e meno 1 questo sarà il campo di esistenza e meno 1 questo sarà il campo di esistenza di questa funzione quindi in effetti a guardarla fa un po' paura ma in effetti se uno traduce passo passo il campo di esistenza si trova semplicemente risolvendo queste 4 disequazioni vediamo questa funzione allora la funzione stavolta è data da questa legge radice quadrata di 1 meno x che moltiplica dentro la radice quadrata la radice quadrata di x meno 1 vediamo qual è il campo di esistenza di questa funzione quindi la domanda è sempre cerchiamo il dominio o il campo di esistenza di questa funzione se io lo approccio il problema sempre a pezzo a pezzo andando a vedere gli ingredienti che ci sono nella nostra funzione le difficoltà si sciolgono facilmente allora io comincio a vedere comincio a vedere che prima di tutto c'è questa radice quadrata quindi il radicando quindi nel nostro caso particolare x meno 1 dovrà essere maggiore o uguale di 0 facile poi cosa vedo ma vedo un'altra radice quadrata allora il suo radicando nel nostro caso 1 meno x che moltiplica radice di x meno 1 dovrà essere maggiore o uguale a 0 ho finito non c'è nient'altro facilissimo si tratta naturalmente ho spostato il problema un po' se volete nell'andare a risolvere queste disequazioni questa apparentemente complicata disequazione è invece facilissima perché questo prodotto guardate qui c'è scritto che questo prodotto voglio che sia maggiore o uguale a 0 ma questo è un numero maggiore o uguale a 0 sia perché c'è scritto x meno 1 ma anche se non lo sapessi perché la radice quadrata di un qualunque numero reale è un numero reale positivo quindi se il prodotto deve essere maggiore o uguale a 0 ed è questo maggiore o uguale a 0 questo significa che 1 meno x deve essere maggiore o uguale a 0 questo x meno 1 deve essere maggiore o uguale a 0 guardate che sciocchezza di sistema abbiamo si può vedere a occhio qual è il campo di esistenza qual è il campo di esistenza beh facilissimo perché deve essere contemporaneamente x meno 1 maggiore o uguale a 0 guardate che c'è scritto qua 1 meno x non posso cambiare disegno quindi ci sarebbe scritto x meno 1 maggiore o uguale a 0 cambiando disegno diventa x meno 1 minore o uguale a 0 perché se cambio disegno naturalmente devo cambiare anche il verso e come fa a essere maggiore o uguale a 0 minore o uguale a 0 semplice per rispondere a questa domanda x meno 1 deve essere per forza uguale a 0 quindi il campo di esistenza è formato soltanto dal numero 1 è uno strano campo di esistenza c'è un solo punto 1 cioè se ha x cosa vuol dire questo ricordiamo se ha x da il valore 1 il corrispondente è un numero reale fate il conto viene 0 facilissimo qualunque altro numero voi prendiate il corrispondente non è un numero reale quindi il campo di esistenza è solo formato da x uguale ad 1 era uno strano esempio che volevo farvi piccola variazione sul tema qui ci metto 3 quindi sostanzialmente sembrerebbe lo stesso esercizio ma non lo è naturalmente perché se cerco il campo di esistenza di questa funzione vedete sto smitizzando completamente la ricerca perché lo pezzetto pezzo a pezzo ogni pezzo è molto semplice poi si tratta di unificare tutte le cose le informazioni allora io qua incontro ancora una volta ripeto lo stesso discorso di prima qui c'è una radice quadrata allora mi ricordo che il radicando deve essere maggiore o uguale a 0 poi incontro un altro radicando ma fortuna vuole che l'esponente stavolta è dispari e allora io ricordo che radice cubica di x ha significato sempre sempre ve lo ricordo ma come il radice cubica il radicando non deve essere maggiore o uguale a 0 il teorema non riguardava soltanto i numeri reali così vero quindi cosa vuol dire questo la radice cubica di x quanto vale vediamo un po' se x è maggiore di 0 è proprio la radice cubica di x come siamo abituati a vederla naturalmente è il simbolo che conoscete perché effettivamente quel simbolo vale soltanto quando la quantità all'interno del radicale è positivo ma quando l'esponente è dispari se x è minore di 0 io cosa posso scrivere radice cubica di x lo posso scrivere come radice cubica di meno meno x posso scriverlo così semplicemente questo meno lo scrivo perché il cubo quando le levo a potenza dispari un numero negativo resta negativo quindi questo per definizione proprio per definizione è uguale all'opposto di radice cubica di meno x questo ha significato perché se x è un numero negativo questo che ho scritto qua dentro che apparentemente sembrerebbe negativo negativo non è è un numero positivo quindi questo ha perfettamente senso e quindi meno radice cubica di meno x faccio un esempio se io volessi dare il significato a questo numero radice cubica di meno 8 non avrebbe senso nel linguaggio dei radicali ma questo per definizione è uguale a meno la radice cubica di 8 e quindi sarà meno 2 e in effetti se fate meno 2 al cubo ottenete meno 8 come è ovvio che sia va bene quindi tornando al nostro problema il fatto di vedere qua il radicale un radicale con esponente dispari con indice dispari non mi dà nessuna limitazione sul suo radicando per cui il campo di esistenza di questa funzione è soltanto data da questa diseguaglianza ovvero x maggiore uguale a 1 quindi diventa elementare volevo farvi pure fare questa separazione la luce di quanto abbiamo visto prima se x meno 1 è maggiore di 0 questo è un numero negativo questo è positivo quindi questa funzione per esempio la funzione sarà sempre minore o uguale a 0 quindi vorrà dire che quando disegnerete il grafico di questa funzione la troverete tutto al di sotto dell'asse delle x così questo per per portarci avanti con il con il lavoro un'altra cosa in cui faccio entrare un valore assoluto ecco un esempio di una funzione in cui entra in gioco il valore assoluto allora la funzione sia questa radice quadrata di 1 meno valore assoluto di x fratto logaritmo di x naturalmente invito tutti coloro che vogliono fare questi esercizi di conoscere la parte di teoria che c'è sotto è bene che io vi ricorderò di volta in volta ciò che giova però avere il supporto teorico sarà fondamentale quindi ancora una volta io voglio cercare il campo di esistenza di questa funzione allora vedo una divisione quindi il divisore deve essere diverso da 0 vedo un logaritmo l'argomento del logaritmo deve essere maggiore di 0 vedo un valore assoluto dentro il valore assoluto ci sono state qualunque nuve positivi negativi reali quello che voglio quindi non mi da restrizioni la radice quadrata sì mi dice che 1 meno valore assoluto di x dovrà essere maggiore o uguale a 0 quindi per cercare il campo di esistenza di questa funzione devo risolvere ancora una volta questo sistema cioè dire l'intersezione fra questi tre insiemi di diseguaglianze allora velocemente questo sto ripetendo quello che ho già fatto nell'esercizio precedente quindi questo vuol dire semplicemente x diverso da 1 qua vuol dire x maggiore di 0 e questo vuol dire valore assoluto di x minore o uguale a 1 cambio disegno cambio diverso faccio le solite operazioni come siete abituati a farle allora si tratta di sapere risolvere questa disequazione ci sono molti metodi per risolvere questa disequazione una direttamente direbbe che x è compresso tra meno 1 e 1 ma se uno non lo ricorda questo cosa potrebbe fare ma per esempio si può fare sto perdendo tanto tempo perché è la prima volta che vi incontro negli esempi questo il valore assoluto allora potrei fare così devo innanzitutto semplicemente al solito l'unica cosa che ci preme e che ci interessa per risolvere queste questioni è che conosce la definizione quando incontro valore assoluto di x cosa vuol dire valore assoluto di x vuol dire semplicemente questo vuol dire x stesso se x è un numero maggiore o uguale a 0 vuol dire il suo opposto se x è minore o uguale a 0 questo vuol dire e solo questo dobbiamo ricordare cosicché se io voglio risolvere questa disequazione io potrei fare così usare solo la definizione e dire supponiamo che x sia maggiore o uguale a 0 e allora naturalmente se x è maggiore o uguale a 0 questo valore assoluto vuol dire x stesso diventa questo e quindi devo risolvere questo e ovviamente maggiore o uguale a 0 minore o uguale a 1 vuol dire x compresso tra 0 e 1 la prima parte ma valore assoluto può volere dire anche l'altra l'altro l'altra questione quindi se x è minore di 0 allora valore assoluto di x vuol dire meno x minore o uguale a 1 ma meno x minore o uguale a 1 vuol dire x maggiore o uguale di meno 1 e x minore di 0 quindi vuol dire x compreso tra meno 1 e 0 devo unire i due perché le soluzioni sono queste e queste se le metto assieme voglio fare visivamente tanto per qua da meno 1 a 0 qua da 0 a 1 complessivamente sono nell'intervallo tra meno 1 e 1 esattamente quello che avevo scritto qua questa sarebbe una maniera usare la definizione di valore assoluto oppure qualche di un altro direbbe questo io devo risolvere la disequazione è la prima volta che ci capita il valore assoluto e poi non perderò tutto questo tempo perché sarà una ripetizione per esempio se devo risolvere come detto la disequazione valore assoluto di x minore o uguale a 1 siccome certamente le due quantità sono positive primo membro e secondo membro il valore assoluto per definizione e 1 è positivo posso elevare al quadrato ambi membri quindi risolvere questa è la stessa cosa che risolvere questa disequazione chi ricorda le disequazioni di secondo grado non avrebbe dubbi a risolvere trovare le due soluzioni che sono più 1 e meno 1 e siccome c'è il minore uguale che discorde con il primo coefficiente quando studierete le disequazioni di secondo grado vedrete che le soluzioni sono tutte quelle interne alle due radici tra meno 1 e 1 quindi in qualunque modo voi lo facciate lo risolviate il risultato è sempre lo stesso quindi si tratta alla fine per cercare quel campo di esistenza di trovare l'intersezione fra le tre disequaglianze x diverso da 1 x maggiore di 0 e x compreso tra meno 1 ed 1 allora il solito discorso ma è canonico l'1 lo devo escludere poi x maggiore di 0 0 escluso maggiore di 0 e x compreso tra meno 1 e 1 devo prendere quelli comuni a tutte e tre e come vedete la parte comuni a tutte e tre è questa un ultimo esempio di questo tipo allora f di x uguale radice quadrata di tangente di x meno 1 vediamo cosa dobbiamo ricordare cosa vedo lì in questa legge vedo una radice quadrata e quindi facile devo ricordare che il suo radicando chiunque questo sia deve essere maggiore o uguale a 0 poi vedo tangente di x e anche qui mi devo ricordare che la tangente di x non c'è mica per tutti i valori di x ma bensì per tutti i valori di x tranne pi greca mezzi tre mezzi pi greca e ogni pi greca si ripete quindi la tangente ricordo che tangente di x esiste se x è diverso da pi greca mezzi più k pi greca la tangente è periodica di pi greca ogni 180 gradi si ripete d'altra parte non è difficile ricordare perché in effetti per ricordarsi questo basta ricordare che la definizione è di tangente tangente non è altro che seno di x su coseno di x e siccome ricordo che il denominatore di una frazione non può essere zero vorrebbe dire per esistere che il coseno di x deve essere diverso da zero ora se vi ricordate dov'è che il coseno vale zero il coseno vale zero a pi greca mezzi a tre mezzi e ogni pi greca vale sempre zero quindi questo si può o ricordare o ricordare il fatto che la tangente si definiva così quindi avremo che x deve essere diverso da pi greca mezzi più k a pi greca bene la prima diseguaglianza purtroppo è una diseguaglianza diseguzione toniometrica vuol dire semplicemente risolvere tangente di x maggiore di 1 maggiore o uguale a 1 e questa la ripeterò qui sotto dov'è che la tangente è maggiore o uguale a 1? vediamo andiamo a ricordarci la tangente se vi ricordate la tangente si definisce proprio sulla tangente nel punto in cui la circonferenza goniometrica incontra l'asse x 1 sarà questa altezza qua la tangente deve essere maggiore di 1 quindi deve essere questa quantità quindi devo prendere angoli tale che la tangente sia maggiore o uguale a 1 innanzitutto dov'è che vale 1 la tangente? la tangente vale 1 a pi greca quarti e ogni volta e ogni pi greca si ripete quindi deve essere maggiore di pi greca quarti fino a qua però non qui quindi prendiamo questo tutti questi portano quindi il disegno non è granché volevo dire che la tangente deve stare qua quindi l'angolo deve essere tra pi greca quarti e pi greca mezzi poi ricomincia da qua se questo è pi greca quarti pi greca quarti più pi greca quanto fa? facciamo un po' di conti fa 5 quarti pi greca e questo farà 3 mezzi pi greca in effetti questo qua si ripete ogni pi greca quindi questo potrei anche non dirlo e quindi limitarmi a dire che la tangente di x è maggiore o uguale a 1 quando x è compresa tra pi greca quarti e pi greca mezzi però questa soltanto non vale solo questa avevo detto che si ripete ogni pi la tangente periodica di pi greca e quindi questo dovrei aggiungere quindi scrivo bene dovrei scrivere x compreso tra pi greca quarti più k pi greca e pi greca mezzi più k pi greca mentre x deve essere diversa da pi greca mezzi più k pi greca questa sarebbe la traduzione di quello che c'è scritto qua ora guardate qua siccome qua la x era minore di pi greca mezzi più k pi greca questo è diventato del tutto inutile è già insi da qua quindi la soluzione sono tanti pezzi di intervallo se lo volessi rappresentare prendete che qua c'è 0 qua c'è pi greca quarti e qua c'è pi greca mezzi quindi l'intervallo è questo questo incluso no cos'era maggiore o uguale a 1 sì quindi questo incluso e questo escluso e poi ogni pi greca si ripete quindi sono infiniti di questi intervallini che si ripetono ogni pi greca per esempio qua ci sarà 5 quarti pi greca 3 mezzi pi greca poi aggiungiamo un altro pi greca che verrà 9 quarti pi greca e pi greca 3 e 2 pi greca 5 5 mezzi pi greca e così via saranno infiniti di questi intervalli basta prenderne uno e ripeterlo ogni pi greca questo sarà il campo di esistenza di questa funzione e quindi il campo di esistenza è periodico di pi greca di esistenza di esistenza di esistenza di esistenza di esistenza